Archiviata l'84esima edizione della festa amare di Scogli di Sant'Anna, consigliere Di Valle, allora tutto è perfettibile, se c'è stata qualche defiance l'anno prossimo proviamo a non ripeterla? Sì, qualche defiance, come dire, il bello della diretta nasconde sempre qualche defiance. C'è un piccolo problema, una centralina posizionata sulle zattere dei fuochi ha ritardato il momento dell'incendio e quindi dello spettacolo piromusicale, al di là di questo siamo estremamente soddisfatti dell'84esima edizione che dal mio punto di vista è stata davvero una super edizione. Mi è piaciuto il complimento di una ragazza che dagli scogli ha assistito a tutto l'evento e ha detto che si è trovata come al centro di una scena di uno spettacolo teatrale eccezionale. Lei spettatrice ma al centro di una scena insieme agli attori, agli attori che peraltro devo dire sono stati davvero bravissimi a cui non posso che fare i miei più sentiti complimenti. Diciamo anche che qualche contestazione sul verdetto finale può essere accantonata lì nella storia dell'84esima edizione. Sì sicuramente, potremmo dilungarci molto su quale sarebbe stata la mia classifica, la tua classifica, ma insomma noi non facciamo i giurati. La giuria era composta da autorevoli esponenti dell'Associazione Italiana con Scenografi e Costumisti. Il presidente è il maestro Salvatore Ronga, persona che ha vissuto la festa in diversi modi, in diverse forme. viene da una famiglia che rappresenta uno dei padri fondatori della festa, stato direttore artistico tre anni fa. Insomma anche grazie al suo equilibrio e alla sua professionalità io sono sicuro che anche la giuria ha fatto un buon lavoro. Poi ripeto, anche le polemiche sulla classifica fanno parte della festa. Mi è dispiaciuto per la barca di Ischia, ospicavo, speravo, credevo in un risultato migliore, ma tant'è, andrà meglio sicuramente la prossima volta.